Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la cronaca, i carabinieri della stazione di Pompei hanno sequestrato 9 tonnellate di marihuana in una piantagione di oltre 2000 metri quadrati all'ex polverificio borbonico. Torniamo a Torre del Greco, dopo le segnalazioni giunte in redazione sulla carenza d'acqua al cimitero abbiamo ascoltato l'assessore competente Giuseppe Speranza. Il mare è per tutti, a Del Colano inaugurata questa mattina la prima passerella per disabili su una spiaggia libera. In chiusura parliamo di artigianato con l'incontro tenutosi nei giorni scorsi a Stecca, presso l'area degli ex molini meridionali Marzoli. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. 9 tonnellate di marihuana in una piantagione di oltre 2000 metri quadrati, 18.000 piante sequestrate e distrutte. I carabinieri della stazione di Pompei hanno rinvenuto e sequestrato un'estesa coltivazione di marihuana illecitamente avviata in un fondo demaniale, attualmente acquisito dal Parco archeologico di Pompei. Nel corso di quotidiani servizi di controllo del territorio hanno focalizzato la propria attenzione sull'area da cui proveniva l'intenso ed inconfondibile odore di marihuana, accertando la presenza di un ingresso abusivo. Anche con l'osilio di droni, i carabinieri hanno accertato la presenza di una fiorente coltivazione di marihuana che si estendeva su un'area di 2000 metri quadrati ricadente tra l'ex polverificio borbonico e il locale centro commerciale La Cartiera, adeguatamente irrigata mediante sistemi automatizzati di pompaggio che attingevano direttamente dal vicino fiume Sarno. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i gnoti si sono illecitamente impossessati dell'estesa porzione di terreno demaniale, impiantandovi una coltivazione illecita protetta alla vista dall'esterno da una fitta vegetazione serbatica ed accessibile esclusivamente mediante un angusto cunicolo ricavato nel muro di cinta dell'edificio di origine borbonica. I carabinieri sono riusciti a penetrare nella coltivazione ed a monitorarla dall'alto con l'osilio di droni fino a poi a successivo intervento. Nel corso delle attività sono state sequestrate 18.000 piante di marihuana sottratte al mercato illecito degli stupefacenti per complessive 9 tonnellate di peso oltre a materiale per la coltivazione e il confezionamento. Negli studi di TVC di l'assessore con delega al cimitero Giuseppe Speranza da diverse segnalazioni dei cittadini apprendiamo di un problema di carenza d'acqua al cimitero. Che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Già da tempo abbiamo individuato tramite dei sondaggi fatti dalla Sessagori delle perdite d'acqua in più parti del cimitero. Alcune le abbiamo anche risolte. Infatti alcune fondanine che prima non erogavano acqua siamo riusciti a sistemarle perché c'erano delle perdite. Purtroppo l'impianto che abbiamo al cimitero è stato costruito in più momenti, in più epoche. La parte dove c'è questa grossa perdita d'acqua, che ancora non siamo riusciti a individuare effettivamente la location, risale alla notte dei tempi. Si sta pensando subito dopo questo periodo di vacanza di provvedere a una sorta di indagine sotterranea, geognostica. Non conosco i termini tecnici, ma sicuramente c'è da parte dell'amministrazione, da parte dell'ufficio un'attenzione particolare per questa carenza d'acqua, che noi già conosciamo. Vi fa piacere che i cittadini si rivolgano anche alla stampa per sollecitare, però è una questione che conosciamo, ma che non siamo ancora riusciti a risolvere per tante motivazioni. Un lavoro che dovrete fare anche con l'ausilio della Gori? Sicuramente la Gori sarà la parte esecutrice, ma la parte proponente siamo noi come amministrazione, perché effettivamente delle perdite d'acqua sotterranea, di cui non se ne conosce, nella provenienza e nella direzione, incomincerà anche un tantino a preoccupare. Al di là dell'aspetto dei consumi, che sono, devo dire, abbastanza notevoli, però anche dall'aspetto ambientale, dall'aspetto strutturale, questa cosa onestamente mi preoccupa. La Gori è venuta già più volte sul territorio, ha individuato delle piccole perdite, ma la grossa perdita è che purtroppo, per sistemi ancora, non siamo ancora riusciti a identificarla. Parliamo del cimitero, parliamo invece di interventi di restyling, che cosa c'è in cantiere in tal senso? Diciamo che abbiamo, nella variazione di bilancio che stiamo da qui a poco approvando e che approveremo, una è stata già approvata e approveremo ancora. Abbiamo messo una posta in bilancio per il restyling, per la ristrutturazione di alcuni compresi che hanno proprio bisogno di essere ristrutturati. Altre iniziative che sicuramente metteremo in itinere, per esempio con l'acquisto di nuove scale per compresi nicchiari che non dispongono di scale. Tante persone sono rivolte più volte anche al sottoscritto perché non possono raggiungere i propri cari nei piani più alti dei loculi, quindi anche le scale, un certo numero di scale saranno sistemate ove ne ha bisogno e dove c'è necessità. Inaugurata questa mattina ad Ercolano la prima passerella per disabili su una spiaggia libera, un progetto che nasce dalla sinergia tra le associazioni per dimostrare che l'handicap non è un limite invalicabile, ma un'opportunità per rafforzare il senso di comunità. La spiaggia è stata dotata di una passerella e di due serie job, serie speciali per consentire l'ingresso in acqua al disabile. La passerella è stata inaugurata sulla spiaggia di Via Marittima dal sindaco Ciro Bonaiuto, alla presenza del presidente dell'associazione Nuovo Progetto Ercolano Nicola Florio, dei consiglieri comunali Ciro Santoro e Andrea Fienco e del giovane Salvatore che è riuscito così nel suo intento di raggiungere il mare senza nessuna difficoltà. Abbiamo realizzato una passerella per consentire diversamente abili di accedere al mare ed è una conquista straordinaria se consideriamo le difficoltà che vive la mia città, Ercolano, ed è bello che questa passerella sia su una spiaggia libera proprio per dare la possibilità a tutti di godere della nostra bellezza. È giusto che si possa consentire a tutti di poter accedere alla spiaggia. Voglio ringraziare le associazioni che hanno contribuito a realizzare quest'opera ed anche i consiglieri comunali che hanno lavorato anche fisicamente per allestirla. L'espressione della capacità di coesione e di collaborazione tra tutte le forze, quelle istituzionali, quindi il mio grazie va anche al consigliere Fienco che come è stato sottolineato dallo stesso sindaco è stato praticamente operativo. Lo abbiamo fatto tutti insieme, insieme a Nuovo Progetto Ercolano, insieme a tante associazioni che hanno scelto di sostenere non tanto un progetto ma una necessità sociale. Grazie all'associazione Nuovo Progetto Ercolano il mare è veramente per tutti e ciò che mi sorprende ancora è che nonostante tutte le difficoltà che si possono avere. La cittadinanza ha risposto bene nel gestire, nel montaggio della petana ci siamo ritrovati tutti a collaborare come se fossero in un grande entusiasmo della prima volta per i bambini per andare a mare. Grazie alla proposta che ha fatto Ciro Santoro, la sua proposta di allestire su questa spiaggia libera la passerella è stata accolta con grande entusiasmo dall'associazione Nuovo Progetto Ercolano, direttivo, soci e comitato sostenitori e da tante associazioni che hanno contribuito qualcuna in particolare ha contribuito all'acquisto di una seconda sedia job per dare la possibilità a questi ragazzi di andare al mare, fare il bagno in tranquillità. Quindi noi diciamo le passerelle le costruiamo, non le cavalchiamo. Un momento di confronto per le imprese artigiane di Torre del Greco con molteplici spunti di progettazione in tutti i settori delle attività, dal food ai gioielli con il cammeo e il corallo all'arte e al turismo. Grande partecipazione all'incontro organizzato presso la stecca agli ex molini meridionali Marzoli da Stella Marina, società di servizi Team, Temporary Export Manager, per analizzare le difficoltà che vivono le aziende nell'affrontare i mercati esteri, soprattutto la Cina. E' intervenuto anche l'imprenditore Carlo Riccio, con delega dell'amministrazione comunale all'internazionalizzazione, che ha sottolineato il suo impegno per far sì che le eccellenze torresi vengano valorizzate e presentate all'estero sotto un unico marchio. Focus anche sulle opportunità del mercato cinese con il professor Grassetti, ingegnere industriale, con 35 anni di esperienza in Cina per progetti di cooperazione scientifica. Tante le esperienze condivise, da Giussi Pernice, che ha ripercorso le esperienze di vendita all'estero dal Giappone alla Cina, degli artigiani del cammeo, a Salvatore Landolfi, che da anni si occupa di import ed export con la Cina, a Teresa Freddo, insegnante di inglese, che ha sottolineato l'importanza di come presentarsi sui social all'estero e con la propria immagine digitale. Non è mancato l'intervento di Luca Coppola del Consorzio Costa del Vesuvio, che raccoglie oltre 70 aziende del turismo e della ricettività. Conclusioni affidate a Marina Martinelli, che ha sottolineato l'importanza di poter fare sinergia presentandosi come gruppo nelle fiere e negli eventi internazionali. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazionechioccialatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. L'informazione del Tg di TV City vi dà appuntamento lunedì.